L'ho mai portato qua? No, hai venuto qui? Cos'era? L'appostazione di mortai della prima guerra mondiale, se tu vai dentro di lì dall'altra parte vedi la valle, lì c'era il puntatore e qua sotto è il mortai. In modo che di là non ti potessero centrare. Con i gradi. E lì il puntatore che ti diceva dove andavi a colpire. Correggi, una, due postazioni, tre, quattro postazioni. No, dai. Capito? Così quelli là non ti potevano tirare. Eh sì. E tu avevi già i gradi lì, ma te mettevi solo in asse, boom, boom. Bellissimo. E da lì entrati c'era un buco dall'altra parte dove praticamente una seritoia e vedevano la ritiravano in curto. Ma anche qua non credo abbiano mai sparato. Anche perché nella prima guerra mondiale eravamo alleati della Francia. Hambunissima. Bellissimo. Sì, sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti